eh 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 com'è? oh allora com'è? eh dopo rivecci com'è? annaggia e ciao ecco uno brigandone come sta la signora? ma la saluti tanto eh? beh maschio oh via sbrigammeci su che marvenne bille da caccia dopo si trova amministrato quello diventa una veste allora signori che non siete d'accordo lo sapemo ma sue politiche agricole proprio fate a schiaffi ci spiegate come la pensate? eh io un tanto ti ringrazio per sta domanda del merda ma a me sembra questa mi chiedete? eh che me penso io sulla politica agricola? io penso che tocca da meno pesticidi meno monnezza perchè sta roba armagnamo fa male. un dandine verde rame e un dandine bordo lesse a rotazione il dano... e un idriolo? anche! no come dice quella che che ne sa quell'adorto i trattamenti so come antibiotici tocca piagli ora a tempo una volta ti scordi te se in culo no? allora niente ora ti rispondo subito a tono noi con bille l'orto ce l'hiamo sempre avuto ecco piccolitto caruccio dietro la casa bianca noi amiamo l'orto bianco infatti siamo tutti zappa bianca pala bianca tutto bianco abbiamo fatto ecco e un po' quell'anni bille ci ha dato affanno arriva con la zappetta mi ricordo un bucio di culo però ti dirò costarvi di quelle pure fere che ti diamo no? che le tengono tutti c'è uno stallitto bianco chiamiamo oh! non ci crederai ci venivano certi fumitori che erano le sette bellezze allora n'hai capito niente allora tu forse proprio non sai come se forni i fumitori perchè ci vuole quello congime io vi ho sempre i dei spitella fino fino vinti tra una pianta e un'altra ne basta una frangata dico è terribile allora adesso siamo arrivati alle battute conclusive no? una domanda importante voglio fare a te in particolare cosa serve l'America per tornare a essere l'America? allora ve lo dico subito quello che ci vuole secondo me per far tornare grande l'America ci vuole principi morali educazione, rispetto tutto quello che una volta ci insegnavano no? se vi ricordate i nonni nostri ecco principi morali, la moralità, l'educazione a vecchia e tanda pru